Il cantante numero 4 del gruppo di Petico numero 3 Il titolo di sua canzione è Simipora Pappia, come dico E ritmo Tom Wals, compositore da Josie Herrera e reglista Johnny Scarvai E cantante, da manero molto meglio di come Giavev Sanocchi, e galante canto Wilfred Pessarini Grazie, grazie Buon tardi Mi ha avuto un plazio di venire al mercenario con un gruppo di Petico Rindendo un homenaje per un periodo, un dia, un feccio importante Per Aruba, 48 di mar, che mi ha detto che mi identificano come Giuditerra Asi non sta, un gruppo di Petico accompagnando a me per Bolsonaro con Hopi, Cari e Amor Grazie 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 per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!